Mancati introiti, quasi 800.000 euro in meno nelle casse del comune si calcola, maggiori esborsi per i cittadini. Da un anno a questa parte, da quando cioè l'attività fu sospesa dalla regione Puglia per pericolo di inquinamento e l'impianto successivamente sequestrato, i rifiuti fanno un giro enorme, biostabilizzati a Foggia e poi smaltiti nel Tarantino, sono lievitati i costi di trasporto. La chiusura della discarica di Trani, gestita dall'AMIU, continua ad essere un problema. Si sta lavorando per la messa a sicurezza in maniera permanente e definitiva per evitare cioè che si continui chiaramente ad inquinare nella falda. Quali ripercussioni sul territorio con una discarica così importante e chiusa? Enormi, ho detto voi pensate non solo quello che il comune di Trani non ha percepito in termini economici ma quello che siamo costretti a pagare noi come tutto quanto il lato, i comuni che ricadono nel lato, praticamente sono quadruplicate le tariffe chiaramente per noi cittadini. Questo non significa dover necessariamente riaprirla alla discarica, significa innanzitutto mettere in sicurezza in maniera permanente e verificare se ci sono chiaramente le condizioni per poterla riaprire sempre garantendo gli standard di massima sicurezza. Non prima di un anno e mezzo la sua riapertura, dice il sindaco, esplose, ricordano le cronache, con l'eruzione di migliaia di litri di percolato, il liquido che trae origine dalla decomposizione dei rifiuti. Da oltre due anni dopo la chiusura della discarica di Giovinazzo e in forza di disposizioni regionali sempre prorogate, l'impianto riceveva immondizia da decine di comuni dalla provincia e dal sud barese.